A Casnego resta chiusa la RIPA-P, la RIADAPIN di Aletto. Per il maltempo di questi giorni si sono verificati dei problemi. Spieghiamo qual è la situazione. La situazione attuale, come dicevi, rimane per ora, rimangono chiuse, la RIPA-P rimane chiusa appunto perché dopo gli smuttamenti che si sono verificati per causa del maltempo nei giorni precedenti c'è stato un primo intervento da parte, ovviamente era la situazione monitorata dai nostri tecnici e c'è stato un primo intervento del geologo della provincia il quale ha valutato la situazione e si è reso necessario un primo intervento di pulizia di tutta la vegetazione. Questa pulizia è stata effettuata nella giornata di venerdì, ieri, venerdì e attualmente appunto la strada rimane chiusa perché dopo questa pulizia ci sarà un secondo intervento da parte del geologo sempre della provincia che valuterà un po' se è necessario intervenire e in che maniera intervenire se ci sono situazioni di pericolo per quanto riguarda questo versante o meno se tutto andrà per il meglio nei prossimi giorni sicuramente verrà riaperta forse già nella giornata di lunedì. Quindi di sicuro la chiusura si prolungherà per tutto il fine settimana e poi lunedì si fa una rivalutazione? Questa è l'indicazione, sicuramente rimane chiusa per questo fine settimana ovviamente c'è un disagio per quanti devono uscire e entrare dal paese ma per fortuna abbiamo la nostra via dei Carrali che conduce in Val Gandino quindi diciamo il paese non rimane isolato ma abbiamo questa fortuna di avere due strade di accesso al nostro paese e poi vediamo un punto lunedì e da farsi.